Su 2796 accessi tra il 23 dicembre e il 3 di gennaio i ricoveri sono stati 256, quindi soltanto il 9,2% sono i numeri del pronto soccorso a retino ancora intasato per via degli accessi record dovuti all'influenza. Abbiamo avuto circa 80 persone in più della media degli accessi in questi ultimi 7-10 giorni, ma questo iperafflusso è soprattutto formato da persone che hanno codici minori, anzi l'83% dei presenti ieri aveva codici minori. Io ho anche parlato un po' con le persone, quindi l'ho anche verificato da medico per conto mio. Solo il 9% ha avuto bisogno di ricovero, quindi ecco un invito, questo nel riconoscere l'impegno di tutti e capisco anche il punto di vista dei cittadini, però voglio sottolineare l'ottima performance dei nostri medici, dei nostri infermieri e poi voglio dire che forse in questi casi la prima risposta non dovrebbe essere il pronto soccorso. Ci può stare, perché questo ci dicono i cittadini che nel territorio, soprattutto durante le feste, manchi la risposta appunto dei medici di famiglia piuttosto che della guardia medica, questo è quello che ci rappresenta? E' bene, grazie della domanda, è bene sottolineare che non è vero, assolutamente no. Noi abbiamo un'organizzazione ormai di 24 ore su 24, noi tramite l'organizzazione delle aggregazioni funzionali, grazie alle case della salute e soprattutto grazie alla continuità assistenziale, noi abbiamo una risposta sulle 24 ore, sabato e domenica incluso. Ci si spiega il perché di questo picco influenzale nonostante una copertura insomma vaccinale importante? Allora la copertura vaccinale è importante, però riguarda prevalentemente le fasce di età a rischio e sopra 65 anni. Purtroppo nella nostra mentalità, nella nostra civiltà, prendo la febbre ma devo continuare a lavorare e questo vuol dire che invece che fare le cose banali, tre giorni di riposo e un antipiretico, continuo a lavorare, prendo le complicanze, vado al giro e porto l'influenza da tutte le altre parti. Allora supermercati e altri posti dove ci sono persone concentrate fa follamento, vuol dire andarsi a cercare poi l'influenza. La copertura è alta nelle categorie a rischio ma non è alta nella popolazione generale, per cui bisognerebbe avere l'intelligenza di dire che quando uno non sta bene si ferma, non è il lavoro la nostra fine ultima.